Ciao, sono Davide Galanti. L'Italia è un paese a rischio idrogeologico elevato, superiore anche a quello di molti altri paesi. Franne, smottamenti, allagamenti, grandinate violente sono molto frequenti. Io ho visto una mucchia di automobili in un parcheggio e non si capiva da dove erano arrivate tutte quelle automobili. Un IT manager di Bonporto mi ha detto, Galanti lei doveva vedere la zona industriale, era un immenso lago, abbiamo salvato la sala server per il rotto della cuffia, ma la gente non poteva venire a lavorare, e come ci arrivava? In Canotto. Credo che al dramma e al dolore di questi fatti non bisognerebbe aggiungere anche il disagio economico di non poter lavorare. Le tecnologie per poter lavorare indipendentemente dal posto di lavoro oggi esistono tutte, noi le conosciamo, le padroneggiamo, le abbiamo implementate in molte aziende. Se voi ti possiamo dare qualche consiglio, possiamo dirti come si fa. Chiamaci all'800 200 801 oppure vieni su serverla.it Grazie a tutti. Grazie a tutti.